Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa oggi di la nostra zuppa di porro. Vediamo quello che è successo sui giornali, non prima di ricordarvi che questa sera, mercoledì, abbiamo Matrix e quindi mi raccomando tutti collegati, questa sera come sempre, dopo la partita della Juventus, ci sarà Matrix. Allora, quali sono i temi della giornata? Il tema della giornata di alta politica internazionale ovviamente è la May, che decide, il premier britannico, che decide di andare alle elezioni, chiama alle elezioni, come dicono gli inglesi, l'8 di giugno era in attesa, non hanno che lei presente il Consiglio, forse il commento che a me oggi mi è interessato di più è quello di Alessandro Sallustri sul giornale che dice hanno poca paura gli inglesi della democrazia, di andare a sentire quello che pensa il popolo, Cameron si è dimesso quando ha perso sulla Brexit, la May del medesimo partito vuole invece rafforzarsi perché pensa che ormai sia importante andare a trovare il timbro popolare di quello che è la certificazione della Brexit e questo per quanto riguarda l'Inghilterra direi abbastanza tutto, poi trovate di tutto, Daily Mail oggi, il quotidiano, il tabloid popolare inglese è contentissimo di queste elezioni e poi soprattutto un po' spernacchi ai lord che non vengono eletti, insomma Sallustri e Mail danno una lettura, adesso se mi permettete l'accostamento un po' improbabile, molto simile di quello che ha cercato di dire la Mail. Se volete leggervi i Gali della Loggia oggi è abbastanza interessante perché si concentra sui privilegi che sarebbero oggetto delle attenzioni del Movimento 5 Stelle, dicendo, prendendo un po' in giro il Movimento 5 Stelle, bisognerebbe però che Gali della Loggia, io sono anche d'accordo in linea di fondo sul fatto che stiamo esagerando nel parlare dei privilegi dei politici e non di tante altre categorie, però Gali della Loggia scrive i suoi fondi sul giornale che ha fatto della battaglia nei confronti della casta in maniera anche ossessionante con Stella e Rizzo, la sua battaglia e quindi in fondo più che rivolgersi al Movimento 5 Stelle dovrebbe rivolgersi ai suoi compagni di banco, se lui stesse in un banco nel Corriere della Sera e non nell'università, e cioè Rizzo e Stella e quindi dovrebbe rivolgere questa battaglia contro una futile campagna contro i privilegi non già al Movimento 5 Stelle ma ai suoi amici giornalisti. È molto divertente il titolo di Libero che secondo me vale i pezzi di tutti quanti gli altri giornali, ieri è caduto un ennesimo ponte su una strada italiana e schiaccia una macchina dei carabinieri, per fortuna nessuno di loro morte, cadono più ponti che governi. Titola Libero con un titolo di quelli che Feltri sa fare in modo molto azzeccato. Mi lascio in fondo le ultime due notizie più importanti secondo me, quelle che riguardano l'aumento dell'IVA di cui vi avevo parlato sabato per un'intervista del Messaggero e poi dei vaccini. Partiamo con l'aumento dell'IVA. Mi sembra di capire che quelle della sera inquadra la cosa come una cosa che non è assolutamente esclusa. Padora ha detto aumentiamo l'IVA come ci consiglia all'Oxe e diminuiamo il cuno fiscale. Vi sta prendendo per i fondelli. L'aumento dell'IVA vale 20 miliardi, la diminuzione del cuno fiscale se va bene saranno 4-5 miliardi. Ci metto la firma sul fuoco, la mano sul fuoco che sia così. Ma comunque se non è così sono ben contento come diminuisce il cuno fiscale. Ma anche se diminuisce il cuno fiscale dello stesso valore dell'IVA ci sarebbe uno spostamento di ricchezza enorme tra coloro che hanno un reddito garantito, fisso, dipendenti pubblici, dipendenti privati, contratti di tempo indeterminato che avrebbero una riduzione del cuno fiscale e noi che non abbiamo, e sono tanti gli indipendenti, che non abbiamo un reddito fisso e che quindi con le nostre partite IVA paghiamo più IVA e abbiamo pochi benefici dal cuno fiscale. Chi se ne frega, anche se fosse questo, ma il tema fondamentale lo pone oggi Osvaldo De Paolini e cioè sul fondo del messaggero scrive una cosa geniale, dice ragazzi attenzione alle minchiate che ci racconta l'Ocse. L'Ocse nel documento in cui dice che si dovrebbe aumentare l'IVA in Italia perché è l'unico modo per ridurre il cuno fiscale, era lo stesso Oxe che ha consigliato e che Monti ha seguito, di aumentare le tasse sulla prima casa che lo stesso Renzi ha tolto. Quel cavolo di manovra che ha distrutto il mercato immobiliare e ci ha fatto piombare in una recessione molto più dura degli altri paesi. Vogliamo ancora fare gli stessi errori del passato? Chiede De Paolini, mi viene il sangue al cervello a me pensare che ancora seguiamo le minchiate di aumento di tasse che ci propone l'Ocse. Questo lo aggiungo io, non De Paolini che in maniera più educata spiega quale sarebbe la differenza nel aggiungere l'IVA al 4% o al 10% o al 22%. Detto questo io vi vorrei segnalare una cosa, che l'aumento del 2% dell'IVA sui prodotti che hanno l'IVA al 10% vuol dire un aumento delle tasse del 20%, un 2% su 10, un aumento delle tasse del 20%, un quinto in più di tasse sui prodotti che oggi pagano 10%. E' una roba da pazzi, da pazzi, come era quello di omettere le imposte sulla prima casa, che in Italia sono un fondo pensione la prima casa, non sono ricchezza, sono fondo pensione, l'80% degli italiani non ha fondo pensione ma è proprietà sulla prima casa. Se ne è accorto Renzi, cosa che gli avevano spiegato a centrodestra da anni, ma venivano considerati populisti, se ne è accorto Renzi e giustamente Renzi cosa ha fatto? Ha tolto la tasse sulla prima casa e Renzi probabilmente combatterà quest'ultima incredibile follia di aumentare l'IVA, della quale però è favorevole la Confindustria. Oggi, sul sole 24 ore, Paolazzi, centro studio Confindustria, il centro studi che ci aveva spiegato che se passava il no al referendum sarebbe crollato il pilo italiano, ma insomma lo stesso centro studi che ha questa grande credibilità di prevedere il futuro, ci spiega che se diminuerà l'IVA, diminuerà il cuneo fiscale e aumenterà l'IVA, sarà un volano per la crescita. Permettetemi di avere qualche dubbio sulle analisi fatte dal centro studi della Confindustria, che nell'ultimo periodo mi è sembrato più attento a analisi di tipo, diciamo, politico strategico che di tipo fattuale. Report! La questione è molto semplice, report, fatto report, report sui vaccini ha fatto report, e cioè ha preso una tesi, ne ha preso tutti gli elementi e non ha sentito l'altra campana, l'ha fatto sull'Eni, l'ha fatto sull'Enel, l'ha fatto su La Moda, l'ha fatto su Moncler, e report, report è una pistola puntata che tutti voi adorate perché considerate la migliore trasmissione della Rai, perché fa le inchieste, non guarda in faccia a nessuno, e adesso oggi il PD si è accorto che report è schierato perché è andato contro l'unità, contro Benigni, contro i mostri sacri della sinistra e contro i vaccini, è il catalizzatore che fa da innesco per la bomba, cioè chiudiamo report, perché ha fatto una puntata sui vaccini, ma non su tutti i vaccini, state attenti, sui vaccini riguardo al papilloma virus, cioè un vaccino che non è obbligatorio, ma è molto consigliato, io lo farei fare ai miei figli, ovviamente, a mia figlia sicuramente, perché si sostiene che questo virus, se arriva, può creare un tumore, può generare un tumore, ve la semplifico, quindi ci si vaccina per non far arrivare il virus in maniera da evitare il tumore, questa è una cosa che molti scienziati in tutto il mondo considerano buona e giusta, c'è qualche scienziato italiano, si chiama Garattini, oggi sul giorno, che è stato intervistato anche egli da Report, che dice l'intervento preventivo, questo vaccino, di cui si conosce, non si conosce appena l'efficacia, cioè dice Garattini non è sicuro al 100%, perché si scoprirà nei prossimi anni se questo vaccino, bloccando il virus, blocca anche l'insorgenza del tumore, questo dice Garattini, non lo dice, Report, ed è stato sentito da Report, qual è quindi il problema? Il problema è che Report si è inserito in un filone, quello dell'antivaccinismo complottista, che piace tanto a alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e del nuovo partito di D'Alema, perché uno dei maggiori esponenti del Novax e del nuovo partito di D'Alema, che mi sembra che sia in MDP, allora questo filone dice non vaccinatevi perché fa male, la vera notizia non è tanto che Report ha fatto il suo solito sporco mestiere, quello di prendere qualcuno e sparargli addosso, dal punto di vista giornalistico, ma è che gli Stati Uniti hanno deciso che l'Italia è un paese a rischio perché è ritornato il morbillo, quello sì, un vaccino obbligatorio in cui tutti stanno insistendo nel dire ragazzi non facciamo strozzate, non diciamo in giro che questo crea ed è legato all'autismo perché in questo caso rendiamo la cosa, facciamo circolare un'informazione che potrebbe creare una riduzione dei vaccini in Italia, cosa che c'è puntualmente stata. Cosa voglio dire? Qual è la sintesi? La sintesi è Report ha fatto il suo solito mestiere, lo ha fatto su un terreno delicato che quello dei vaccini, lo ha fatto sull'unità, e questo è un terreno ancora più delicato, cioè ha attaccato Renzi e il suo establishment, e quindi grazie ai vaccini l'establishment del PD se la sta prendendo contro Report, che ha pestato il suo solito acceleratore, come lo ha pestato in tantissimi altri casi. Non mi sembra che ci sia stata un'indignazione totale quando Report ha cercato di uccidere un'azienda come si chiama Moncler, un'azienda del Made in Italy che fattura un miliardo di euro. Non mi sembra che ci sia stata una sollevazione globale quando ha provato a farlo con Berlusconi, con Leni, con Lene, è Report, è quella roba là, in che gli italiani considerano la più grande trasmissione di informazione italiana. Sarà così, ma oggi forse un po' meno, proprio perché ha preso un terreno su cui destra e sinistra sono unite, e cioè quello del fatto che alimentare questa cultura antivaccini è un rischio enorme per la salute pubblica. Bene, che altro vi voglio dire? Direi che è tutto, questa sera Stefano, Matrix non è che non fa quello che è molto più rilevante, qualcuno di voi dice che Matrix fa quello che non fa il Report, no, è molto più rilevante talvolta urlare di meno, avere buon senso e raccontare le cose che funzionano. Ieri ho intervistato il signor Auricchio, il signor Auricchio, bene, il signor Auricchio assume 500 persone, produce tutto in Italia, raccontare quella storia vale più che raccontare secondo me il fatto che ci sia qualche azienda orrenda che finge di essere venite, di certo, c'è il sensazionalismo di trovare aziende che, ma ci sono anche le aziende come Auricchio che fanno il loro mestiere. Vabbè, insomma, avete capito la mia posizione, ieri ci avete seguiti tantissimi, sono a ringraziarvi, se avete... Grazie. 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 Grazie.